Il tema di questo focus oltre confine ci porta dritti all'altra grande questione su dopo la pandemia come le imprese italiane hanno dovuto affrontare un contesto competitivo. Allora parto proprio da Simest, lo sapete presente in 112 paesi in 5 continenti. Allora tornare ad investire all'estero la prima domanda è sì ma dove? E soprattutto teniamo presente che domenica si giocherà una grande partita, io non dico niente perché sono più scaramantico di un napoletano e quindi non dico nulla però rimane il grande fattore Regno Unito. La Brexit è lì e dobbiamo ancora forse bene capirne i costi per l'Italia. Però cominciamo a tracciare una prima mappa dell'oltre confine, tornare ad investire all'estero sì ma dove? Prego. Allora sicuramente l'opzione di crescere all'estero soprattutto tramite investimenti diretti è un'opzione che in questo momento presenta delle opportunità molto importanti. Le aree nelle quali sicuramente può esserci maggiore attrattività per quanto ci riguarda sono senza dubbio quelle degli Stati Uniti che hanno una dinamica di ripartenza molto forte e con grande interesse anche le aree europee, in particolar modo la Francia e la Germania, così come alcune aree di paesi in via di sviluppo, in particolar modo il Medio Oriente. Secondo lei quali sono, ad esempio anche rispetto al Regno Unito, l'abbiamo parlato anche in altri momenti, ma forse questo potrebbe essere interessante cominciare anche ad affrontarlo, i costi di questa Brexit? I costi della Brexit sono costi legati... Io dico per il sistema Italia, eh? Certo, sono costi legati alla possibilità di trovare difficoltà di accesso che prima non c'era perché facevano parte di un unico mercato, avere una stima specifica di quali possano essere i costi in questo momento è ancora prematuro. Sicuramente ad un costo si associa però anche un'opportunità, un mercato che prende una direzione diversa, comincia ad avere esigenze diverse dal punto di vista proprio di domanda e questo può essere per le nostre aziende un fattore di attrattività. Nel Regno Unito, così come nel resto del nostro continente, ci sono dinamiche di crescita interessanti dove è possibile per le aziende italiane, soprattutto in alcuni settori, quali per esempio quello del food, dell'agricoltura, avere delle aree molto efficienti e quindi rappresenta in ogni caso un ambito da tenere sotto controllo con grande attenzione. I costi saranno costi legati sicuramente alla dinamica commerciale, fiscale che per il momento hanno delle ipotesi che vedremo nel prossimo futuro quali possano essere in termini concreti. L'altra grande variante è la cosiddetta variante vaccini, oltre alla variante delta che diciamo è quella che conosciamo e per la quale la giusta campagna sulla vaccinazione, ricordata anche dal Presidente Di Stefano, diventa determinante per non ritornare alla situazione di prima. E allora se esiste questa variante vaccini, quando uno deve andare a investire nel resto del mondo, la ripartenza non sarà uguale dappertutto, no? Sì, sono partiti i primi paesi che hanno svolto meglio il tema vaccinale. I Stati Uniti presumono di essere entro la fine dell'anno già al pre-Covid, ma diciamo che in generale l'economia mondiale sta scommettendo sulla fine della pandemia. Io ho qualche dubbio sulla fine della pandemia, ma un dubbio derivato dal mio mestiere. Noi facciamo macchine per l'industria farmaceutica. Infatti ci stavo per arrivare. Sì, immaginavo. Avevo capito che questo era il giro, ci vado direttamente. E devo dirvi che sì, grande business. Cioè voi fate, lo dico, tutti qui lo sanno, ma lo dico anche per chi ci sta ascoltando fuori. Farmaceutica e cosmetica, macchine per impacchettare sostanzialmente, no? Quello che è la nostra salvezza, cioè nel merito anche ai vaccini. Nel merito anche ai vaccini. Quello di AstraZeneca, se non ricordo. Abbiamo fatto anche Sputnik, abbiamo fatto anche altri vaccini. Insomma, noi stiamo consegnando molte linee per vaccini ora, però stiamo anche facendo offerte per macchine per vaccini ora. Quindi presumo che l'industria farmaceutica pensi a un periodo piuttosto lungo ancora di fornitura. E comunque ricordo a tutti che ci sono 5 miliardi come minimo di persone, sono un po' di più, sono 6 miliardi, che non si sono ancora vaccinate e che non saremo mai completamente al sicuro finché questi 5-6 miliardi di persone non saranno completamente vaccinate. Usiamo ancora per un istante, poi torno subito da lei, il suo osservatorio che mi sembra molto privilegiato, esattamente per capire questo, cioè l'andamento non tanto della cura della pandemia quanto del vaccino. Lei ci stava dicendo prima, insomma, i tempi saranno lunghi e visto che lei si occupa dell'impacchettamento, qual è il tre? Come sta la fornitura, l'approvvigionamento? Come sta andando? Visto che il suo settore, su questo ci può dare dei dati freschi. Tenete conto di una cosa, fare un impianto vaccino Greenfield normalmente necessiterebbe di almeno tre anni. Adesso si sta facendo tutto molto molto più velocemente, noi stessi stiamo impazzendo, riducendo i nostri tempi di consegna soprattutto della parte, quella che viene definita infialamento. Mi sembra che la capacità, intanto non svelo nulla che non ho già detto, ad esempio noi stiamo fornendo in questo momento capacità produttiva all'Italia per raddoppiare più o meno la propria capacità. Però stiamo consegnando le prime cose adesso, saranno tra validazioni, capacità, insomma, un po' di test, eccetera, saranno in grado di produrre in inizio dell'anno prossimo. Sono questi i tempi. Esatto, questo è importante perché ci dà la dimensione anche di come ci dobbiamo rapportare rispetto alla fine. Certo, certo, certo. Non sono, come dire, cose che si fanno dall'oggi al domani. No, non sono banali. Per quanto riguarda Simest, di cui lei peraltro in una sua prima vita è stato anche vicepresidente. Per quattro anni, sì. Come dire, in questo caso le vostre competenze si intrecciano, ma torno da lei per una cosa molto concreta, che è il famoso patto che avete firmato per l'export alla Farnesina, che è uno strumento che, come dire, può essere interessante e molto utile per questa platea e per chi è qui. Ci può raccontare, loro lo sanno, ma insomma, come si sviluppa questo patto? Sì, allora, il patto per l'export è una risposta, a mio avviso, molto efficace, che rappresenta un esempio di come si possa effettivamente fare squadra in un Paese mettendo insieme diverse competenze e diverse capacità. Il patto per l'export è stato ideato dal Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale e ha visto coinvolti, oltre al Ministero stesso, ovviamente, anche ICE, SACE e noi stessi. Quindi si è creata una squadra che nel corso del 2020 ha giocato insieme tutti i giorni, quindi con i colleghi abbiamo davvero lavorato spalla a spalla. E sono stati stanziati circa 2 miliardi per supportare appunto l'export. Di questi 2 miliardi, 1 miliardo e 3 circa è stato dato in affidamento a Siemens come gestore attraverso il fondo 394 cosiddetto, che è un fondo che supporta tutta una serie di spese legate all'internazionalizzazione delle imprese, prevalentemente delle piccole e medie imprese e che quindi ha avuto una dotazione di capitale straordinaria rispetto alla media del passato. E quindi è un, ripeto, un tipo di risposta di sistema che i fatti dicono abbia funzionato molto bene. È uno strumento, diciamo, vediamo la parte dell'impresa, no? Visto che lei ha ricoperto entrambi i ruoli, su questo può dialogare. L'accesso è un meccanismo semplice, quali sono le credenziali? Tenete conto che sono sempre soldi pubblici, quindi l'accesso deve essere un accesso prudente da parte dell'ente, ma negli ultimi anni si è lavorato tantissimo per rendere l'accesso il più fluido possibile, anche con mezzi informatici, anche saltando molte file. E devo dare atto al management che stanno facendo tutto il possibile per renderlo, come dire, friendly per noi operatori e soprattutto per i piccoli e medi imprese, per i piccoli e medi imprese che trovano uno strumento molto più agile che non qualche anno fa, insomma. Ci sono dei mercati che lei vede particolarmente interessanti in questo momento? Ma sono quelli un po' che le anticipavo prima. Sicuramente gli Stati Uniti, come è stato accennato, hanno una, diciamo, dinamica di risposta alla crisi molto potente. In questo momento hanno superato, diciamo, la fase pandemica in maniera quasi definitiva. è un mercato che per sua, diciamo, natura e configurazione è molto più reattivo rispetto ad altri ed è un mercato molto grande. Quindi è sicuramente tra tutti quello che rappresenta una maggiore attrattività. Storicamente le nostre aziende hanno poi una grande presenza sui mercati europei, in cui non possiamo più includere gli amici inglesi, che però rappresentano un ambito, diciamo, economico ancora più o meno omogeneo. E sicuramente le aree di destinazione, Francia, Germania e Inghilterra, sono anche queste estremamente attrattive. Voi svolgete un ruolo che è determinante, perché essendo, la dico così, così ce la capiamo bene, delle antenne sui territori, no? Avete l'orecchio sempre basso a terra, sparso per il mondo. E quindi avete questa capacità di intercettare quello che accade. Ma non è soltanto questo il vostro scopo, cioè voi accompagnate, come dire, le aziende anche nel capire come investire in questi paesi, perché un imprenditore si trova, già la burocrazia italiana, come dire, fa il suo. Però mi dicono alcuni amici che, ad esempio, anche negli Stati Uniti non è che le cose siano così semplici. Ad esempio conosco un grosso gruppo industriale del settore delle terme, che adesso sta aprendo un grosso e importante stabilimento a Manhattan, e dice, beh, guarda, sì, è vero che c'è il mito americano degli animal spirits, delle cose che si fanno in modo semplice, però non è che c'è l'impresa in sette giorni, che è un'antica proposta che l'amico Tajani conosce molto bene. Cioè anche lì, come dire, la burocrazia c'è, quindi è un falso, noi abbiamo i nostri problemi, ma anche lì... Posso fare un piccolo esempio del nostro stabilimento americano, che non è enorme, sono 4-5 mila metri quadri, mi chiama il capo filiale e dice, abbiamo comprato un nuovo stabilimento, eccetera, guarda che non possiamo entrarci subito, dobbiamo far venire il controllo, eccetera. Dico, bene, fallo venire, quanto tempo si vuole? Pensando ai tempi italiani, dico, 3-4 mesi. Dice, no, no, guarda, vengono tra tre giorni, però se paghiamo 90 dollari, facciamo la procedura accelerata, vengono oggi pomeriggio. E ho detto, va bene, facciamo l'accelerata. Tutto regolare, ovviamente. Tutto regolare, l'omino è venuto uno, ha controllato tutto, ci ha dato i giorni che ci servivano, è ritornato immediatamente e noi in una settimana abbiamo aperto. Poi magari i nostri amici saranno stati sfortunati a Manhattan, io nello stabilimento abbiamo i New Jersey e questa è la mia esperienza personale. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, lei dice che questo è un meccanismo che potrebbe essere replicabile. Oddio, gli Stati Uniti sono molto diversi da noi, molto diversi da noi. Ci accontenteremo, diciamo, delle strutture burocratiche tipo quelle tedesche. Anche qui posso fare un altro racconto, un'altra parabola. Queste storie di vita, ecco, queste parabole non evangeliche, però ci riportano le cose alla realtà. Prego. Anche qua, stabilimentino, anche qui piccoletto, insomma tutto sommato, a Firsen, che è vicino a Düsseldorf. Mi ricordo perfettamente, era un giugno, il mio capo filiale mi fa vedere, era piccolo la zona dove eravamo, mi fa vedere un campo di Gran Turco, un campo di Gran Turco, dicendo va bene qua, sì, onestamente c'erano le strade fatte, sì, va bene il campo di Gran Turco, undici mesi dopo abbiamo inaugurato. Inaugurato, non ha avuto il permesso, inaugurato. Beh, sì. Germania. Lei, diciamo, preciso con le parole, inaugurato, in Italia, vabbè, insomma. Forse, forse essere molto fortunati per avere un buon rapporto con l'ente locale, si sarebbe avuto il permesso. È un problema, come diceva Tajani, anche di, come dire, risolvere le questioni legate alla giustizia amministrativa, rispetto al pubblico impiego, alla nostra burocrazia, c'è quello? Anche qui, posso raccontarvi che qui in un episodio di vita, sono andato per motivi di incarico a visitare l'ambasciatore americano, non quello attuale, quello precedente, e facendo poi, dopo, ero sempre il mio presidente regionale a Bonaccini, e dopo aver fatto tutto questo bel colloquio questa, si parlava di investimenti americani in Italia, mi sono sentito l'ambasciatore che ha detto esattamente queste cose. Il problema dell'azienda americana per investire in Italia sono, primo, la giustizia, secondo, la burocrazia, terzo, il livello di tassazione, quarto, la delinquenza. Ah, quarto la delinquenza. Quarto. Allora, sono tutte cose che noi italiani sappiamo. Io onestamente sono rimasto molto scioccato e un po' seccato che me lo disesse l'ambasciatore americano, però devo constatare che è assolutamente vero. Alfonso, un consiglio da dare ai giovani imprenditori da qui all'immediato futuro? Sicuramente prendere questo momento di discontinuità nella nostra economia a livello globale come grande opportunità. Ci sono due tematiche che sono state più volte menzionate oggi, che sono quella della digitalizzazione e della sostenibilità, che sicuramente sono i driver, i fattori competitivi di successo dei prossimi decenni, su cui focalizzerei l'attenzione, e contare sul proprio paese che è fonte di ispirazione e di tradizione imprenditoriale enorme, di grande innovatività, ma anche sul sistema che comincia ad accompagnarlo in maniera significativa. Noi per esempio siamo pronti, e quello che facciamo per mestiere, oltre a gestire i soldi dei fondi pubblici, ad accompagnare le aziende all'estero anche con il nostro capitale. Quindi noi abbiamo un'attività con i nostri mezzi propri di partecipazione all'estero in aziende partecipate ed aziende italiane, nelle quali le accompagniamo proprio con l'equity. Riteniamo che in questo momento ci siano grandi opportunità proprio su questo fronte. Le aziende giovani e coraggiose hanno un mondo che sta cambiando velocemente, uno scenario che si ridisegna, si rimette in discussione delle quote di mercato, ci sono nuovi trend, c'è una ridistribuzione delle catene di valore su un modello che non è più quello globale, ma si struttura su aree regionali. Quindi è un po' una grande opportunità dove ovviamente ci sarà chi avrà difficoltà, però chi avrà la capacità, l'intelligenza, il coraggio per poter prendere delle decisioni appunto di crescita, troverà delle opportunità molto interessanti. Grazie ad Alfonso, amministratore legato di Simest e al dottor Marchesini, vicepresidente di Confindustria. Grazie.